26 a 1 Mancano 2 minuti e 55 secondi Il mio termine della partita 6 a 1 per il gioco di maglia bianca Doppia finta Arresto, tiro, non va Palla, mancolta da quale del frattosso per i partiti Prova un tiro della lunga Niente, riguardo con il giustino Va, incurante Deve botte E porta a casa il settimo punto Due e mezzo, quindi siamo giunti a metà Del secondo tempo Biancio, cero, che non va Riparte stigmentino 1 contro 1 Appoggio, rimbalzo per quei al frattosso Mi sono sotto 7 a 1 Due e 10 Arbitrofischia, un fallo